Benvenuti alla Valle dei Fiori, oggi parliamo di nutrizione. La nutrizione è la concimazione delle nostre piante, tutte le piante del nostro giardino. Allora io consiglio sempre di dare del concime a lenta cessione subito all'inizio della primavera per farle partire bene e poi andando avanti di integrare la nostra concimazione con dei prodotti liquidi che aiutano ad arricchire la terra di tutti gli elementi che vengono persi ovviamente durante tutte le bagnature. Le concimazioni posso usare dei concimi specifici in base al tipo di pianta che noi troviamo, tipo per le rose possiamo dare il concime specifico per le rose che contiene guano e di conseguenza li aiuta in tutte le sue fasi di sviluppo, per le piante acide un concime specifico per le piante acide. Quando poi ci troviamo di fronte ad affrontare la stagione calda ovviamente e andiamo a bagnare molto di più preferisco dare concimazioni liquide ad esempio se ho delle sulfine, delle petunie una volta a settimana nell'acqua di irrigazione sciogliere il concime specifico e somministrarlo in questo modo noi garantiamo alla pianta un apporto continuo di elementi nutritivi e andiamo ad aiutarla a continuare a rifiorire non solo fino alla fine dell'estate ma anche oltre. Oltre che ad aiutare la pianta a rifiorire l'aiutiamo anche a mantenersi sana. Ovviamente oltre che alle concimazioni liquide abbiamo anche concimazioni granulari che di solito le consiglio per quelle che sono le piante che sono piantumate in piena terra. Ricordo quindi che per mantenere le nostre piante belle, sane, vigorose con fioriture coppiose dobbiamo integrare sempre con una concimazione. Per oggi abbiamo finito alla prossima puntata. Grazie, arrivederci.